Completamente libero, il lavoro strepitoso a rimbalzi in attacco degli azzurri, premiato con questa tributa. Più nove palle in mano per l'Italia, grande palla di Spisso e grande taglio di Tonut. Situazioni speciali che uno o due canestri a partita possono portare, molto ben giocata dal duo Spisso-Tonut, torna più 11 in Italia.